Un'altra giornata importantissima per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Oggi, sabato, assistiamo alla cosiddetta Kidical Mass, cioè al giro in bicicletta dei bambini delle scuole di Roma, per molti dei quali è una delle prime volte andare in bicicletta e lo fanno intorno ai fori romani, toccando importanti monumenti come il Colosseo, il Campidoglio e il ritorno qui. È una dimostrazione che in città si può andare con le due ruote, si può lasciare l'auto a casa e si può aspirare a una mobilità più sostenibile.